Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Joe Red e oggi parliamo del grande fratello Vip, scoppia la litte nella notte tra Dayan e Stefania Orlando. Vediamo. Notte movimentata al grande fratello Vip, dopo ore di tensione tra Stefania Orlando e Dayan Mello si riaccende la scintilla. Le due negli ultimi tempi sembravano aver stabilito una sorta di tregua, ma le confessioni che Dayan ha fatto a Cecilia Capriotti e Carlotta dell'Isola sulle future nomination dell'Orlando hanno portato un acceso confronto. Stefania ha accusato la modella brasiliana di sfruttare la situazione a suo vantaggio. Tutto è successo questa notte. Stefania in camera blu parlando con Cecilia e Dayan ritorna sulle dichiarazioni dei giorni scorsi che ha riportato Dayan in questi giorni, creando malumori e incomprensioni in casa. Hai strumentalizzato una mia frase, l'hai riportata distorta, dice Stefania riferendosi al discorso sulle nomination fatto con la modella brasiliana. Cecilia prova a prendere le parti di Dayan spiegando che la difficoltà con la lingua la porta a volte a semplificare. Ma la sua intenzione non era quella di creare malumori e polemiche. Io ho capito questo, dice Dayan, che afferma di aver riportato le parole della conquilina senza stravolgere. Ma Stefania non è d'accordo. Se io dico che vorrei che le persone che hanno iniziato con me vadano avanti, non si può riportare Stefania nomina i nuovi. È stato un colpo basso. Tu hai il tuo modo di pensare, io il mio, continua Dayan, che ribadisce le sue buone intenzioni. I toni si alzano e Stefania ribatte sottolineando come la conquilina agisce sempre seguendo il suo interesse personale. Guardi solo quello che conviene a te. Dayan cerca di difendersi dalle accuse della Orlando, affermando di aver sempre protetto le sue amiche, ma a questo punto Stefania lancia una frecciata alla modella. Si vede come hai protetto la tua amica, alludendo al rapporto con Rosalinda Cannavò. Perché io le mie amiche la scelgo e la proteggo. Si, si vede. Nel bene e nel male, c'è un amico a prescindere. Io non mi cerco di andare d'accordo con tutti per non becarsi le nomine. amici. Non riuscendo a reggere più la discussione, Dayan Melo abbandona la stanza e dopo l'accesa discussione avuta con Dayan Melo, Stefania Orlando si lascia andare a un pianto. Sono stata una stronza io a parlare con Dayana. Ho sbagliato tutto io, ha strumentalizzato un discorso che abbiamo fatto, dichiara la conduttrice. Non ti deve importare nulla. Cioè nessuno cambia idea. Nessuno cambia idea, Stefania. La stima, io te l'ho detto, nomini, cioè non nomini vecchi, io ti stimo di più. E voi? Che cosa ne pensate? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video. Se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Red.